È stato un ferragosso blindato anche per la provincia di Salerno, Questura e Prefettura. Hanno predisposto un intenso dispositivo di sicurezza per tenere sotto controllo il territorio e verificare il rispetto delle norme anti-covid. Un monitoraggio che ha dato i suoi frutti sabato notte in una discoteca salernitana. È stata riscontrata la presenza di un migliaio di giovani intenti a ballare. Il locale è stato chiuso provvisoriamente e sarà segnalato alla Prefettura. Le forze dell'ordine inoltre hanno sanzionato due esercizi che avevano avviato un'attività di ristorazione senza alcuna autorizzazione. Sono finiti nei guai anche un 49enne sorpreso con un bastone durante una lite per motivi di viabilità ed un 26enne che è evaso dai domiciliari. Durante i controlli inoltre è stato ritrovato un 49enne che era scomparso, ma la guardia è rimasta alta anche sul fronte sanitario. Fino ad oggi ne abbiamo soltanto 7 ricoverate per queste malattie infettive che abbiamo lasciato come reparto covid. Chiaramente ci siamo stati anche addertati per eventuali casi che possano aumentare e su questo siamo già pronti con il Daprocida, sperando che chiuso fino ad adesso continui a restare chiuso. In via San Leonardo inoltre si lavora per potenziare la struttura e garantire un'assistenza all'avanguardia. Proprio in questi giorni ci stiamo muovendo per localizzare gli spazi dove inserire il robot, un'attrezzatura che in Italia ce ne sono poche ma che sarà utile per tutti i tipi di chirurgia, in particolare per il cancro della prostata e quindi per l'urologia.